Direttore, cosa pensa degli allevamenti intensivi dove gli animali fanno una vita da lager? Sono scandalizzato e sono addolorato. Ogni volta che vedo o comunque penso a quelle situazioni, veramente sto male. Io rispetto gli animali tutti, io non mangio né carne né pesce, per cui non riesco neanche a capire questa smania di voler ammazzare dei vitelli, dei buoi, delle muche, così per soddisfare la pancia della gente. Tu da quant'è che sei vegetariano, Vittorio? Ma diciamo da molti anni, almeno 50.